È stata fondamentale per noi per avvicinarci alla salvezza sicuramente, per ridarci un po' di slancio dopo gli ultimi pareggi, per il pubblico perché era ovviamente un derby quindi una partita sentitissima e ci dà morale per affrontare al meglio queste partite. Penso che matematicamente ancora non si sa, però potrebbe essere quasi quella decisiva in caso di vittoria. Noi ovviamente ci impegneremo al massimo, è un'altra partita in casa che finora abbiamo sempre fatto bene, quindi cercheremo di continuare e di finire quest'anno mantenendo inviolato il nostro campo. Comunque finora è andata bene, per il fatto che rimango bloccato comunque sono terzo centrale quindi posso secondo i dettagli del Minister fare qualche sortita ma ovviamente non andando sempre, essendo il terzo centrale poi rischierei anche di creare degli scompensi e lasciare dei buchi per troppe ripartenze degli avversari, quindi bisogna un attimo equilibrare la cosa. Il Minister sceglie quello che pensa sia meglio, magari più da tirarle a me probabilmente, se potevo fare qualcosa in più sicuramente perché si può sempre fare meglio e se non ho guadagnato la fiducia già da prima del Minister magari qualche colpa va a me, magari ho l'impegno, ho la concentrazione, comunque potevo fare sicuramente qualcosa in più. Mi sono trovato bene, poi ovviamente il futuro adesso, io sono in presto quindi non aspetta a me scegliere, però comunque è una piazza calda e mi sono trovato molto bene.